What's up tutti c'è ormai benvenuti da giocherina in questo nuovo video effettivamente è la primissima volta che faccio una cosa del genere perché è la primissima volta che mi viene inviato addirittura un video totalmente a me dedicato per cui io prima di tutto ringrazio Kevin Gigantino perché è stato lui a mandarmelo infatti qualche giorno fa mi aveva chiesto quale fosse la mia canzone preferita e ovviamente io gli ho detto il titolo di una delle mie canzoni preferite e lui l'ho utilizzata in questo video per cui direi di andare a guardarlo ragazzi io non ho visto nemmeno quanto dura vediamo un po' che cosa ha fatto Kevin per me eccomi sono io ha fatto queste mie foto sono su Instagram faccia da scema che c'ho bella bella wow ah gli auguri di Natale Natali ho detto Natale ah c'è il rapi oh la presentazione del canale minchia ho ancora i capelli lunghissimi minchia non sembro nemmeno io questi capelli ragazzi nooo minecraft parkour indimenticabile ahahah 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 oddio 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 aspetta che lo stoppo non faccio il tempo a leggere se no ciao giocherina sono Kevin ho voluto farti questo video anche se non fatto benissimo chi se ne frega l'importante è la sostanza per ringraziarti per tutto quello che hai fatto e per quello che stai continuando a fare sono una persona magnifica per ogni video che pubblichi mi fai strappare un sorriso anche nelle giornate più buie ti ringrazio ancora grazie a te ho superato un periodo della mia vita pessimo non credevo poter superare ma con i tuoi sorrisi con i tuoi scleri le tue lacrime e con i tuoi discorsi mi hai fatto capire che bisogna sempre andare avanti e mai arrendersi sei un esempio di persona sei magnifica non so cosa dire perché sono una persona estremamente timida auguri anche per i 5000 iscritti sei un mito grazie grazie mille Kevin veramente e sono ragazzi questi piccoli gesti che veramente mi fanno continuare ad avere voglia di stare qua su youtube che come ben sappiamo è diventato un ambiente non totalmente genuino insomma e molto spesso vi dirò la verità non molto spesso qualche volta comunque ci sono stati momenti in cui ho pensato magari di lasciare tutto ma veramente ragazzi siete voi siete voi la mia forza e con qualsiasi cosa voi facciate riuscite sempre scusatemi a spingermi ad andare avanti a spingermi a fare di più a spingermi a fare meglio insomma migliorare anche me come persona quindi grazie grazie davvero di cuore Kevin ti mando un bacione ti voglio bene e grazie a tutti ragazzi mando un bacione ad ognuno di voi ciao 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 ciao